buonasera ragazzi buonasera a tutti cominciamo questa zoom inesima devo dire zoom di aggiornamento su su un token che abbiamo che abbiamo lanciato recentemente mi riferisco alla meme coin wall street meme come al solito partiamo dal sito della community vi ricordo tutti criptovalute gruppo italiano dove potete trovare le nuove criptovalute quindi quelle che sono nate prima di essere listate naturalmente solo quelle ad alto potenziale di crescita fate attenzione perché 98 99 per cento di di quelle in generale che nascono sono sono scammo comunque sono token fuffa quindi mi raccomando naturalmente prima si acquistano in presale e prima che dell'immissione sul mercato nella sezione eservate membri vip e successivamente possono essere acquistati da tutti sull'exchange detto ciò andiamo a prendere la nostra la nostra cripto tenete i microfoni spenti per favore così da non sovrapporre le voci se avete dubbi domande come al solito nella chat qui di zoom fatele direttamente se no alla fine ci confrontiamo come sempre quindi come sempre vi dicevo abbiamo appunto tra le nuove criptovalute alto potenziale abbiamo inserito per la prima volta una meme coin naturalmente vi ricordisco wall street meme quindi se ci clicchiamo sopra come al solito se lasciate il cuore se vi piace il progetto in modo tale da far assegnare quanti più il numero diciamo più grande possibile per far capire agli altri se effettivamente l'avete acquistato meno e possiamo vedere qui il contratto ufficiale e il link ufficiale del progetto questa sera facciamo un aggiornamento sul progetto perché naturalmente sono stati sono successe determinate cose ci sono stati del dei nuovi delle innovazioni è stato ufficializzato quindi vi faccio vedere questa cosa dei canali ufficiali per quale motivo perché ce ne sono molti che non sono diciamo molti diciamo che vogliono scammare quindi che vogliono truffare la gente creano delle pagine o comunque dei canali che non sono quelli ufficiali quindi se cliccate sopra rischiate di incappare una truffa quindi per essere sicuri al 100 per cento di essere sui canali ufficiali fate riferimenti e schiacciateli direttamente dal sito di tutto il gruppo italiano che è il sito della nostra community detto ciò andiamo sul ho fatto appunto i due video precedenti di aggiornamento sul progetto vediamo del lancio poi di aggiornamento vediamo un pochettino perché l'ultima volta ci eravamo lasciati spiegandomi perché ero rialzista su questo progetto vediamo se effettivamente è ancora così perché ho visto alcuni insomma che mi hanno chiesto visto che il prezzo era andato era un certo punto era andato giù fino a tornare ai due centesimi che era il prezzo di partenza mi hanno chiesto naturalmente se se fosse ancora rialzista se andava tutto bene o se c'è qualche problema vediamolo insieme come al solito l'aggiornamento sul progetto lo vedete andando direttamente sul sito web del progetto vedete che è cambiato rispetto all'ultima volta che ci siamo che ci siamo visti vabbè c'è questo disclaimer iniziale non è il nostro caso quindi non siamo nel regno unito continuiamo sul sito c'è questo disclaimer in scusate c'è questo il sito come vedete è è aggiornato e salta subito all'occhio questo questo banner diciamo in alto sul fatto che c'è la possibilità di ottenere 200 per cento di bonus sul primo deposito a che cosa si riferisce si riferisce a quella che è il loro come possiamo definirlo prodotto perché solitamente sappiamo come abbiamo detto durante il primo video le meme coin non hanno un vero e proprio prodotto nascono semplicemente da alcuni da un ideale di alcuni meme che pubblicano sui loro canali infatti sui loro canali di ad esempio canale disco scusate canale twitter notiamo che ci sono un sacco naturalmente di meme perché è proprio quello che solitamente ci si aspetta da meme coin e il valore viene dato da dalla community che segue questo questo progetto però sempre di più sempre più meme coin hanno capito insomma soprattutto in beer market per poter sopravvivere hanno bisogno di dare utilità al loro token cioè io che acquisto wall street meme ok per quale motivo l'acquisto a scopo totalmente solamente speculativo perfetto nel momento in cui vedo un grafico che va giù la maggior parte di voi immagino adesso non voglio dire la maggior parte di voi molti si sono solitamente quando vedono un grafico che va giù si spaventano vanno in panico perché non hanno esperienza non sono dei trader e quindi poi cosa fanno vanno vendere quindi se succede questo naturalmente solo scopo speculativo si finisce naturalmente che si va a morire quindi serve un prodotto il prodotto in questo caso si tratta di un casino online e quando è stato lanciato qualche giorno fa all'inizio non è stato preso benissimo dalla loro community l'avete visto sui canali discord e twitter canale discord che tra altro era stato hackerato in precedenza quindi questo è stato diciamo uno dei motivi che ha causato il crollo durante la notte e quindi io onestamente vi consiglierei più che di utilizzare quello discord a parte che noi non l'abbiamo mai lasciato ma di utilizzare quello telegram se volete vedere un pochettino che aria gira all'interno delle loro community diciamo di telegram quindi il loro prodotto che hanno lanciato qual è è un casino online stavo dicendo la loro community all'inizio non l'ha presa benissimo per quale motivo non so se l'avete capito come mai all'inizio non è stato preso benissimo non è stato preso benissimo perché alcuni sostengono e quindi hanno poi influenzato altri a pensare che perché l'obiettivo di qualsiasi diciamo progetto naturalmente è partire su hox htx quindi vecchio hobby e tutti gli altri sui quali in questo momento è listato che tra l'altro li trovate qua sopra dove siamo vediamo se li troviamo li dovremmo trovare sulla pagina principale anche se adesso non li vedo vabbè e naturalmente dopo successivamente quindi tutti gli exchange sui quali è disponibile e naturalmente finire anche su binance coinbase e quelli che vengono chiamati exchange tier one tier uno quindi molti sostengono sostenevano che con questo diciamo con un prodotto del tipo del casino binance non avrebbe mai listato queste meme perché loro non listano progetti che diciamo hanno in sé trattano di gioco d'azzardo cosa che naturalmente non è non è veritiera nel senso che ci sono progetti che sono listati su 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 binance che trattano anche diciamo di sono anche diciamo di casino più che di casino online sono comunque progetti che trattano diciamo a livello di diciamo di giochi di fortuna e quindi o comunque di di slot o di giochi a premi quindi in realtà non è totalmente vera questa notizia sicuramente potrebbe esserci un pochettino più difficoltà nel fare questa cosa però a mio avviso questa è stata una grande una grande giocata da parte del di wall street meme per quale motivo perché con lanciando questo casino online vabbè all'inizio danno questo 200 per cento di bonus perché si iscrive e naturalmente diversi le utilità per chi possiede wall street meme quali sono naturalmente avere dei benefici nell'utilizzare questo casino ma soprattutto il beneficio più grande qual è che il ritorno economico che il team del progetto otterrà tramite questo casino online è proprio un vero e proprio casino è cioè nel senso funziona tra l'altro hanno la vediamo se riusciamo a trovarlo hanno la il diciamo il loro prodotto la licenza e del caracao non so se anche se lo pronuncio correttamente vediamo se c'è scritto qui carasau penso si pronunci che è quella diciamo più famosa per il per il gioco d'azzardo quindi insomma è tutto regolare soltanto in alcuni paesi non è consentito accedere direttamente al sito quindi se siete uno di quei paesi dovete utilizzare per forza non potete accedere altrimenti utilizzare una vvn detto ciò quindi hanno lanciato questo casino questa è la grossa novità non è stato diciamo presa da tutti in modo positivo ho visto che alcuni hanno abbandonato il progetto infatti non c'è stato subito un pump al lancio di questa notizia se volete la mia opinione io penso che abbiano fatto se la siano giocata molto bene da questo punto di vista perché questa è una giocata che non ha un immediato effetto sul prezzo proprio appena lanciato questa piattaforma ma avrà un ottimo effetto sul prezzo nel diciamo da qui in là per quale motivo? perché il 10% di quello che questo casino online riuscirà a tra l'altro è un casino dove è possibile utilizzare sia le slot i diciamo i giochi online classici proprio casino online vero e proprio e naturalmente fare anche delle bet cioè scommettere sulle partite di calcio tennis e così via è una giocata per quale motivo? perché il 10% di tutti i loro profitti loro li utilizzeranno per fare che cosa? per riacquistare sul mercato quindi andando molto probabilmente lo faranno su OX andanno su OX e riacquisteranno col 10% questa cosa la faranno tra l'altro giornalmente riacquistando il token quindi proprio andando sul mercato acquistando naturalmente acquistandolo avrà un effetto positivo sul valore del token perché il token andrà a salire naturalmente cosa faranno con questi token? allora parte dei token che riacquisteranno verranno utilizzati per due motivi uno per quelle persone che hanno fatto lo stake cioè hanno bloccato il loro token vediamolo qua per quelli che hanno bloccato il loro token e ricevono quotidianamente quindi giornalmente una reward passiva che è del 41% annuale quindi bisogna fare 41% diviso 365 giorni e si scopre quant'è giornaliera questa percentuale naturalmente varia perché se aumenta il valore in stake naturalmente diminuisce se invece diminuisce il valore in stake aumenta anche la percentuale e quindi è positivo per quale motivo? perché appunto riacquistando il valore del token alla lunga andrà a salire e soprattutto andrà a ricompensare quelle persone che sono state arrivate fedeli nel non vendere il token ma nel metterlo in stake quindi nel bloccarlo per chi volesse farlo poi eventualmente faremo un video apposta su come mettere in stake è molto semplice bisogna semplicemente tenerli su metamask collegarsi e fare e aggiungere allo stake per chi mette in stake naturalmente sono 7 giorni di blocco quindi i primi 7 giorni non è possibile prelevarli dopo i 7 giorni si possono prelevare i propri volte di meme quando si vuole quindi è positivo per questo motivo e un'altra parte verrà utilizzata per il burn per chi non sapesse cosa è il burn è l'eliminazione definitiva dei token in questo caso Wall Street meme dalla circolazione questo anche questo ha un effetto positivo sul prezzo per quel motivo? perché eliminando il token definitivamente si riduce la supply totale del token e quindi diventa più scarso per vedere quant'è la supply come al solito abbiamo lasciato il link per vedere quant'è la supply totale del token siamo partiti con se vi ricordate durante il primo video 2 miliardi di token e vedete che in questo momento la supply sta diminuendo diminuisce per quale motivo? proprio per la questione burn ok non è diminuita tantissimo siamo a 1 miliardo 999 milioni però sta diminuendo perché diminuisce? perché hanno aggiunto quindi oltre al burn che fanno loro ogni tanto decidono di fare questo buyback e burn è possibile anche per la community per chi volesse questa devo dire è un'idea altrettanto figa è possibile per la community quindi per tutti i possessori di Wall Street meme che ce l'hanno naturalmente sul proprio wallet di andare a bruciare quello che desiderano di quello che possiedono e quindi bruciando un Wall Street meme allo stesso momento nello stesso momento in cui noi ne bruciamo uno loro in automatico ne bruceranno la stessa quantità quindi se io brucio 100.000 Wall Street meme anche loro in automatico bruciaranno 100.000 Wall Street meme fino ad oggi la community ha bruciato 161.000 Wall Street meme quindi in automatico qui sono stati bruciati 161.000 più quelli che ha bruciato di sua iniziativa Wall Street meme quindi in totale sono stati bruciati 2.418.000 su buyback totale di 2 miliardi quindi naturalmente è ancora è ancora tanta però questo meccanismo renderà sempre di più il token diciamo diminuirà di valore ok quindi questa è la grossa novità il fatto che ci sia stata questa nuova piattaforma dedicata appunto al casino online e che il 10% di questa piattaforma naturalmente all'interno della piattaforma è possibile utilizzare Wall Street meme come diciamo moneta per poter depositare quindi scommettere e giocare però non soltanto Wall Street meme sarà possibile utilizzare anche altri token infatti questo era un po' dibattuta come cosa perché se si voleva diciamo incrementare al 100% l'utilizzo di Wall Street meme bisognava forse limitarlo come deposito e prelievo solo a questo token però facendo in questo modo si avrebbe avuto meno utenza e quindi naturalmente il casino avrebbe guadagnato di meno e quindi meno soldi poi da utilizzare per il buyback quindi è tutto collegato detto ciò vediamo pochettino come sta andando il progetto rispetto ai parametri che noi guardiamo di solito allora rispetto all'ultima volta possiamo notare che cosa che siamo arrivati a 39.058 holders quindi le persone che stanno detenendo queste sono soltanto le persone che stanno detenendo in questo momento Wall Street meme sul proprio wallet ok nel decentralizzato se li detengono sull'exchange centralizzati come ad esempio OX, HTX, MESC, BINX e così via non vengono conteggiati in questo numero è importantissimo che anche questo numero salga diciamo nell'ultimo periodo come vedete nell'ultimo giorno sta salendo se arriva diciamo sopra i 40.000 è un buon traguardo quindi da questo punto di vista quantità di holders quindi nuove persone che si interessano al progetto che investono nel progetto stiamo salendo quindi devo dire positivo molto positivo perché comunque stiamo parlando di un token che è nato da meno di un mese quindi già avere 40.000 persone che detengono questo token sul proprio wallet è positivo poi andiamo a guardare altri parametri quali sono gli altri parametri da guardare possiamo osservare come sta andando sui social allora su Telegram abbiamo notato non so se l'avete notato anche voi eventualmente segnalatemelo che c'è stata una diminuzione delle persone che seguono il progetto perché alcuni come dicevo non hanno preso molto bene la novità del casino perché l'hanno vista il che non è totalmente sbagliato diciamo che l'idea originale di Wall Street Meme era quella naturalmente di andare contro i grossi quindi diciamo dedicata a quei piccoli investitori che si fanno forza e distruggono poi effettivamente quelli che sono i grossi investitori quindi dare diciamo alla community un casino online è un po' come sapete sui casino online solitamente si va a perdere i soldi e non si va a guadagnare e quindi molti l'hanno presa come un modo per dire ci volete praticamente rubare i nostri soldi utilizzando diciamo dandoci questo questo prodotto quindi non l'hanno presa benissimo anche se poi dico io non è che tu ci devi per forza giocare al casino cioè il casino è dedicato a tutti a tutte le persone non soltanto a quelli che utilizzano Wall Street Meme quello che ci interessa a noi è che il casino vada bene perché se il casino va bene più guadagnano loro e altri hanno preso benissimo questa cosa del 10% hanno detto che 10% è poco secondo loro secondo me in realtà è giusto 10% per quale motivo perché un casino ha i suoi costi cioè nel senso loro dai profitti che ricavano devono dai profitti insomma dai ricavi che fanno devono comunque hanno dei costi da sostenere e quindi devono diciamo pagarsi questi costi ed essere diciamo essere in linea per poter diciamo proseguire per diverso tempo perché se non hanno un guadagno naturalmente nessuno lavora gratis quindi su Telegram vi dicevo c'è stata una diminuzione dei seguaci invece su Twitter se non erro rispetto all'ultima volta abbiamo un incremento dei followers aveva addirittura toccato i 310.000 adesso siamo a 309 e 7 quindi anche qui direi positivo cioè non su tutte le piattaforme perché comunque il fatto che il canale Discord sia stato acchierato sicuramente non è stato diciamo di grande aiuto però stanno stanno crescendo quindi soprattutto su su X sul vecchio Twitter sono sempre più più presenti poi altra cosa da andare a vedere che è importantissima è come è posizionato l'order book e qui mi soffermo un attimo perché la maggior parte della nostra strategia di investimento in questo momento si sofferma su questo punto nell'ultimo periodo stiamo analizzando abbiamo analizzato particolarmente come si sta muovendo perché è importantissimo questo ve lo sottolineo quindi momento di attenzione per favore sulle meme coin quello che è importante rispetto ad altri progetti ok c'è proprio la strategia dal mio punto di vista dal nostro punto di vista del team di Critto Volte Gruppo Italiano è quello di andare a guardare quello che fanno le balene cioè su le meme coin sapete non stiamo parlando di un progetto ok in questo caso ci sarà una piattaforma che poi piano piano cominceranno ad acquistare quindi questo tutto positivo tutto bello fino a quando al momento non c'è ancora sicuramente nel medio lungo periodo sarà positivo però ad oggi non c'è ancora quel buyback ne hanno fatto uno da 100.000 dollari però non c'è ancora in modo in modo continuativo quello che sulle meme coin bisogna andare a guardare sempre e dal mio punto di vista bisogna utilizzare come strategia per muoversi è quella di andare a vedere che cosa fanno le balene perché sono loro che soprattutto su un progetto così dico piccolo ma in realtà non è piccolo perché comunque stiamo parlando di 40.000 persone più di 40.000 persone che utilizzano possiedono o comunque tradano questo token però piccolo rispetto a bitcoin e ethereum insomma tutte quelle che sono prime per capitalizzazione è di andare a guardare le balene perché naturalmente 3, 4, 5 balene possono naturalmente muovere e spostare il valore del token a loro piacere soprattutto quando utilizzano le leve le leve finanziarie quindi in questo caso hanno diciamo più più fondi a disposizione quindi perché vi dico questo questo naturalmente mi riferisco soprattutto ai membri della community VIP se prendete spunto dalla lezione che abbiamo fatto sulle sulle wall lo si può da diverso tempo che stiamo da diversi giorni che stiamo monitorando un pochettino il valore del token facendo diverse analisi e soprattutto sull'order book e se anche voi l'avete fatto sicuramente avrete notato delle particolarità allora in questo caso la particolarità che si può notare qual è? che c'è questo grosso muro di non è esattamente 56 diamolo più da vicino è di quant'è questo muro di acquisto di 54 mila scusate di 54 milioni e 100 mila che è posizionato ai 3 centesimi ok? quindi c'è questo muro di acquisto verso i 3 centesimi qui stiamo parlando di diversi ordini di acquisto che sono che sono stati posizionati però sicuramente ce n'è uno molto grosso o 1-2 e quindi c'è una grossa balena che sta tenendo in questo momento il prezzo sui sui 3 centesimi cioè sotto i 3 centesimi sicuramente fino a quando ci sarà quell'ordine non andrà giù per quale motivo? perché? ah mi sono dimenticato l'ultimo particolare da guardare adesso mi collego per spiegarvelo la quantità in stake l'ultima volta se vi ricordate quando c'è stato il crollo la quantità in stake era diminuta fino ai 480 forse anche meno 470 milioni adesso è salita di nuovo ed è arrivata a 491 milioni quindi le persone effettivamente quelle che acquistano acquistano e mettono in stake quindi la vedono diciamo come una criptoaluta che potrà crescere nel medio lungo termine è importantissimo che questo valore rimanga o quantomeno rimanga così o quantomeno cresca per quale motivo? perché se qua questo valore scende inevitabilmente si riverserà sugli exchange centralizzati come Ox oppure direttamente a mercato quindi andranno su Uniswap collegheranno il proprio wallet andranno su Uniswap e venderanno molto probabilmente perché se no è inutile che cioè se io ho Wall Street Meme è inutile che lo tengo sul mio Metamask ma piuttosto lo metto in stake perché ci guadagno in modo passivo dei Wall Street Meme in più ok? quindi è importantissimo che questo valore non si smuova di tanto perché se dovesse scendere diventa preoccupante per quale motivo? perché naturalmente ci sarà una pressione di vendita più grande in questo momento la pressione di vendita è relativamente bassa ok? ci sono 8 milioni in vendita fino ai 4 centesimi però dopo c'è poca roba ragazzi c'è veramente poca roba cioè se riuscisse diciamo a sfondare i 4 e i 5 centesimi effettivamente dopo ci sarà molta più facilità per il prezzo di poter salire sotto i 3 centesimi al momento che questa è la strategia da ve la sottolineo poi magari ve la spiegherò meglio in un video soprattutto per i membri della community VIP la vedremo attentamente vi faccio vedere esattamente quello che stiamo facendo noi fino a quando l'idea qual è? che fino a quando rimarrà questo valore dei 54 milioni posizionato sui 3 centesimi sotto non andremo perché? perché non ci sono abbastanza ordini di vendita da poter abbattere quando si arriverà sui 3 centesimi se questi saranno disposti ad abbassare cioè non vendere a 0,034 ma vendere a 0,03 non riusciranno ad abbattere questo muro che un pochettino sta scendendo vedete che rimane adesso sui 56 milioni poi ogni tanto sicuramente potrà andare a scendere ad oggi cosa può far salire il prezzo? può far salire il prezzo due cose uno i nuovi utenti che stanno entrando per quello è importante che questo numero aumenti perché le persone che entrano ad oggi possono fare due cose o inseriscono ordini di acquisto cioè dicono ok non lo voglio acquistare a 3 centesimi lo voglio acquistare a 0,028 perché ci spendo di meno ne acquisto di più poi si accorderanno a un certo punto che a 0,028 non ce la faranno mai ad acquistarlo perché non scende allora inevitabilmente dopo due giorni capiranno che se lo vogliono acquistare o devono acquistare a 0,03 che è il prezzo di mercato e quindi inevitabilmente nuovi acquisti faranno salire il prezzo in questo momento naturalmente chi vuole acquistare sa che c'è questo muro quindi non ha bisogno per forza di acquistare non so come dirvi cioè di di acquistare diciamo ad un prezzo più più alto quindi sta aspettando per monitorare la situazione e quindi cerca di acquistare naturalmente vicino ai 3 centesimi chi vuole vendere vede che fa fatica in questo momento cioè se vuole vendere sopra i 3 centesimi fa fatica quindi piano piano chi ha bisogno immediato di sbarazzarsi dei Wall Street meme deve per forza abbassare il proprio valore e vendere ai 3 centesimi non c'è non hanno non hanno altre altre possibilità perché quindi a meno che non arrivino nuovi investitori che acquistano subito a mercato e quindi fanno salire il prezzo e si mangiano questi ordini di vendita che vendono a 0,031 0,032 0,033 e così via ok oppure se no loro se vogliono vendere ora devono vendere a questo valore qua quindi questa è una strategia di che tipo di strategia è? è una strategia per non non acquistare ad un prezzo alto ok cioè io ti obbligo tra virgolette a tu che vuoi vendere subito perché magari hai investito più di quello che potevi investire e vuoi tornare oppure ti stai spaventando in questo momento perché vedi il grafico che scende ti obbligo a svendermelo a 3 centesimi ok svendimelo a 3 centesimi e io te lo compro altrimenti non te lo compro più alto quindi dal mio punto di vista chi lo svende a 3 centesimi fa una grande cazzata detto ciò qual è la strategia che si può adottare secondo questo sistema? fino a quando rimarrà questo blocco dei 3 centesimi vi consiglio di andare a vedere l'ultimo video che abbiamo fatto sull'exchange Binks è un exchange centralizzato basta registrazione con mail e password non dovete fare chi e si controlli niente dovete semplicemente mettere mail e password e basta spostare i vostri USDT e potete operare andare là e inserire ordini di venta di acquisto però lì viene spiegato come fare inserendolo diciamo nella sezione derivati con leva cercando di prenderlo vicino ai 3 centesimi tipo in questo caso è molto buono cioè se riusciamo a prenderlo sui 3 centesimi è perfetto perché da lì posso inserire ordine di acquisto posso inserire perché un ordine di acquisto è un ordine di attivazione ai 3 centesimi e posso andare a dire diciamo che il valore mi aspetto che il valore possa andare long e quindi aspettarmi che il valore possa salire se naturalmente questo lo faccio e lo tengo attivo con l'ordine soltanto nel momento in cui mi rimane questo blocco che c'è in questo momento dei 54 milioni se questo blocco dovesse cadere è impossibile perché ripeto non c'è abbastanza liquidità per vendere però dovesse essere tolto allora in quel caso capiamo che cosa che le balene vogliono effettivamente far abbassare il valore perché? perché molto probabilmente loro stesse a un certo punto inseriranno un ordine anche questo viene fatto vedere nel video ultimo video della community viene fatto vedere come inserire un ordine non long ma a ribasso ok? vediamolo su binks quindi non long ma in questo caso viene chiamato su binks viene chiamato breve ok? sempre con leva in modo tale da naturalmente incrementare i propri guadagni e sempre io mi raccomando vi consiglio questo di inserire sempre lo stop loss in modo tale che se dovesse cambiare il valore repentivamente rispetto a quello che avete deciso poi viene bloccato e non perdete una grossa quantità di quello che è stato il vostro investimento è importantissimo però se si inserisce l'ordine long inserirlo vicino il più possibile vicino ai tre centesimi ok? cioè significa proprio prenderlo possibilmente sui 0,03 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 quello che è ma vicino che sia sui tre centesimi fino a quando rimane il muro di acquisto qui noi siamo a posto perché da qua può soltanto che salire ok? se caso o mai questo muro dovesse essere tolto quindi questo ordine di acquisto dovesse essere tolto allora siamo nei guai quindi dobbiamo io quello che noi onestamente faremo è chiudere gli ordini long che abbiamo aperto quindi sul fatto che salirà ok? li chiudiamo ok? parte di quelli staranno in profitto parte magari si chiuderanno in automatico perché magari partirà lo stop loss e quindi ci perdi un 5-10% di quello della quantità che hai messo come valore diciamo di ordine e apri subito un ordine non long ma un ordine breve cioè che scenderà perché naturalmente se questo muro dei 54 dovesse essere tolto naturalmente ci aspettiamo che il valore possa scendere per quale motivo? perché comunque c'è comunque un 8 milioni che sono di ordini di vendita che sono comunque posizionati qui e quindi se il muro scende se il muro dovesse sparire naturalmente questi 8 milioni inevitabilmente faranno scendere il valore soprattutto se poi a un certo punto da qua si sbloccheranno altri token che finiranno sull'exchange sia che sia sull'exchange hox o che sia direttamente a mercato ok quindi la strategia migliore da adottare in questo momento è questa inseri ogni volta che c'è un muro però mi raccomando e vi anticipo già quello che probabilmente succederà succederà questo in questo momento molte persone siccome c'è questo muro stanno aspettando che questi qui che ad esempio vogliono vendere a 0.039 0.038 0.037 si rompono le palle perché vedono che il valore non scende e abbassino sempre di più in modo tale da svendere il loro token il più basso possibile una volta che questo sarà avvenuto e quindi molto probabilmente questo valore degli 8 milioni scenderà sempre di più allora a quel punto partirà di nuovo quindi dai 3 centesimi si partirà verso i 0.035 o un pochettino di più quando si avrà superato i 0.035 vedrete magicamente che questo muro dei 54 milioni o forse un pochettino meno andrà a posizionarsi sui 0.035 e si andrà avanti così perché questa è una strategia per poter far crescere il valore del token però farlo crescere in modo naturale cosa vuol dire? vuol dire blocco il prezzo a 3 centesimi ok? chi si stanca vuole andare via quelle che loro chiamano paper hands cioè persone che non capiscono niente del progetto vogliono semplicemente speculare ma nel breve termine allora a questo punto facciamolo vendere o in perdita o comunque ad un prezzo basso facciamolo uscire fuori io mi riacquisto i suoi token e me li vado poi successivamente ad un valore molto più alto ok? nel frattempo se io blocco il prezzo a 3 centesimi nuove persone entreranno perché comunque loro stanno facendo un grosso lavoro di marketing perché comunque ci aspettiamo di vedere i loro social aumentare in questo arco temporale vabbè che in questo momento devono promuovere due cose sia il progetto il token e sia naturalmente il casino perché è importante che loro promuovano anche il casino perché se fanno più fatturato avranno più quantità quel 10% del loro fatturato sarà una quantità maggiore da poter utilizzare per il buyback quindi è importantissimo quindi ci aspettiamo che il valore dei loro i loro seguaci aumentino con l'aumentare dei seguaci aumenteranno anche gli holders e se aumentano gli holders naturalmente ci aspettiamo che aumenti anche il valore corrente del token e che quindi naturalmente possa portarlo verso il 0035 o eventualmente il 0040 e poi vedrete questo blocco magicamente che si sposta ai 30 va a bloccarlo ai 35 vedrete due cose particolarmente perché noi lo stiamo analizzando da diverso tempo due cose vedremo che metà di questo blocco si posiziona verso il 0035 e l'altra metà verso il 003499 ok e quindi in quel caso lì forse è il maggior segnale di posizionare un altro ordine long naturalmente quando vedremo il blocco posizionarsi qui altro ordine long impostato naturalmente da 0,035 in modo tale che poi possiamo sfruttare di nuovo la possibile diciamo pump che possa susseguirsi perché poi solitamente se il valore scende avete visto questo passare dai due centesimi a 1,9 0,019 a 0,03 ha suscitato sicuramente nuovo interesse che molti lo davano per morto il progetto addirittura dopo una settimana due settimane vabbè questo è un'altra cosa che fa pensare insomma che le persone sono veramente molto cambiano idea molto facilmente direi che forse abbiamo detto tutto fatemi solo controllare abbiamo analizzato quindi i parametri questi sono i parametri da considerare dobbiamo stare molto attenti a questo valore qui di quello che è messo in stake perché stiamo parlando qua ed è forse il parametro che più mi rende diciamo positivo su questo progetto stiamo parlando ragazzi del quasi un quarto quasi un quarto della supply del token cioè è un numero gigantesco quasi un quarto della supply del token è bloccato in staking cioè bloccato è fermo in staking quindi vuol dire che comunque le persone che l'hanno messo in stake è perché ci vedono una visione a lungo termine perché se no naturalmente lo terrebbero sull'exchange per poterlo vendere da un momento all'altro o comunque sull'exchange tramite ordine di vendita quindi è questo sicuramente è un dato importante dall'altro canto però è sicuramente pericoloso perché siccome si tratta di una quantità molto grande se succede qualsiasi cosa negativa questi qui tolgono dallo stake e naturalmente vanno a posizionare sui sull'exchange e quindi creano sicuramente una caduta del token o quantomeno fino a quando questo blocco fino a quando questo blocco diciamo rimarrà naturalmente questo difficilmente succederà perché bisognerebbe distruggere più di 50 milioni cioè dovrebbe avere valori di vendita per più di 50 milioni quindi insomma significa veramente togliere togliere veramente tanto dallo stake quindi questo è tutto ci aspettiamo queste cose qua ci aspettiamo che in futuro il numero degli holders finalmente raggiunga superi i 40 milioni l'altra cosa che non abbiamo visto ma perché quella so che la guardate da soli è la parte di la parte di volume che anche quello è importante che salga per poter avere diciamo questo benedetto listing su un exchange tier 1 per il quale naturalmente bisogna naturalmente avere un incremento degli holders e un incremento del volume però devo dire che gli holders stanno aumentando da un certo punto di vista anche il volume mi sembra che stia crescendo perché comunque c'è stato questo pump dai due centesimi fino ai tre e quindi un incremento c'è stato allora oggi abbiamo un volume 24 ore 34 milioni ok solitamente eravamo sui 40 milioni vediamo se stiamo appunto su 37.2 se stiamo sui 40 milioni direi che comunque è positivo infatti se guardate la classifica di CoinMarketCap questo token cioè Wall Street Meme è al centesimo posto per volume quindi direi che comunque si piazza molto bene per capitalizzazione di mercato siamo al 355 posto quindi nel momento in cui il valore del token si incrementerà anche questo valore si incrementa per quale motivo? perché la capitalizzazione di mercato come sapete tutti è data dal valore del token per i token che sono in circolazione quindi 1 miliardo e così adesso non so se sono 1,79 esattamente o un po' di meno quindi il numero in circolazione è per il token per il il valore del token quindi se il valore del token aumenta allora naturalmente aumenterà o comunque se l'offerta circolante aumenta aumenterà anche la capitalizzazione di mercato e quindi la posizione in questo momento è 355esimo su CoinMarketCap abbiamo detto tutto quindi le cose da vedere che vedremo in futuro sapete già cosa aspettarvi se continuerà a fare questo giochetto sfruttate questa strategia perché è quella ottimale cioè quella naturalmente di andare a seguire quello che stanno facendo le balene in questo momento e cioè di naturalmente se arriva su 0,035 in questo momento si posiziona posizionatevi long il più possibile sui 3 centesimi ok già questo secondo me è troppo alto dovete cercare di posizionarvi sui 3 centesimi il possibile vicino se non lo prendete piuttosto lo lasciate salire e quando questo muro si verrà spostato su 0,035 allora lo impostate da lì se casomai il muro dovesse diciamo sparire totalmente allora in quel caso bisogna andare andare short probabilmente quindi chiudere le posizioni long e posizionarsi short fino a quel momento siamo tranquilli che sotto i 3 centesimi non va